Al salone di Francoforte Passato, Presente e Futuro si fondono insieme nello stand Hyundai dove la casa coreana ha presentato la Concept 45. Un forte richiamo alla famosissima Pony Coupé Concept presentata proprio 45 anni fa ma il nome non deriva solo da questo, bensì dagli angoli a 45 gradi che ne caratterizzano muso e coda. Ma non solo, ci sono due dettagli che voglio mostrarvi di questa Concept. Innanzitutto, qui gli specchietti non esistono più, ci sono delle telecamere rotanti che vengono pulite da un sistema apposito per far sì che l'immagine riprodotta all'interno sia sempre bella nitida. E poi, qui c'è una fila di LED che segnalerà lo stato di carica delle batterie perché ovviamente stiamo parlando di una Concept elettrica. Quindi, per guidare sempre in sicurezza e stando tranquilli su quanti chilometri si possono percorrere, i LED luminosi sulla fiancata indicheranno l'autonomia dell'auto. E poi, tetto panoramico, questo perché per far filtrare maggiore luce naturale all'interno dell'abitacolo e renderlo così ancora più accogliente perché qui tutto è studiato per far sentire il conducente e gli altri passeggeri come nel salotto di casa propria. Ed eccolo qui l'abitacolo, è davvero molto accogliente. Quattro posti, legno, tessuto e pelle si fondono insieme, pavimento rivestito anche con un bel tappeto, qui sotto naturalmente ci sono le batterie e poi i sedili si possono ruotare completamente e ruotano da soli quando si aprono le portiere per far sedere più comodamente i passeggeri. Per quanto riguarda la plancia, non ci sono touchscreen ma un enorme display e diverse funzioni integrate direttamente nel cruscotto. Linea semplice e struttura minimalista quindi per questa Concept che rappresenta il futuro delle auto elettriche della casa coreana. Ma voi che cosa ne pensate? Aspetto i vostri commenti.